ero sicuro che succede felix è scomparso è successo che la sua meravigliosa moglie si è rotta le scatole e l'ha buttato fuori di casa fatemi uscire non potete trattenervi felix allora una volta perduta che pino l'hai preso ancora non lo so non lo ricordo oscar ti prego aiutami ma non posso aiutarti non sono stato in grado nemmeno di aiutarmi stesso io non ci sono tu non mi hai visto non mi hai sentito io non ti ho telefonato non ci sono si è qui ricordatevi sempre di usare il sottobicchiere dove sei stato chi ha disattivato lo sterilizzatore dell'aria murray ti do 200 dollari se mi presti la tua pistola come che non si dica di sopra ti strapperanno i tuoi vestiti di dosso e faranno di te il loro piccolo oggetto sessuale stai attento sto seguendo un corso di jiu jitsu per radio e le tue bambanie camminano terribilmente sui nervi e in confronto alle quali adolf hitler era semplicemente uno scippatore mi vuoi andare a fare il bagno io voglio dormire tu parli stai per caso dicendo che parlo troppo non è questo il problema il problema è che io sto cominciando ad ascoltarti grazie 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 grazie